Ah! Sono questi i finalisti? Amici 22. Polemica clamorosa dopo l'ultima eliminazione. Bersagliata anche Maria De Filippi Ecco chi è arrivato in finale di Amici 22 La semifinale è finita e chiaramente è successo di tutto. Polemiche comprese Ma chi si è guadagnato il biglietto per la super finalissima del programma? C'è da dire che la potremo vedere. Tutta in diretta. Domenica prossima 14 maggio 2023. Chiaramente su Canale 5 Come sappiamo Wax e Aaron se la sono vista al ballottaggio, e alla fine ad avere la meglio è stato proprio Wax Chiaramente la polemica è stata davvero dura nei suoi confronti. Soprattutto sui social Per tanti, doveva andare in finale a Aaron. Ho chiuso. La finale ve la guardate voi? Ha scritto un utente Assurdo. Ha detto poi un altro spettatore. Wax secondo tanti è stato Raccomandato. Stessa cosa capitata anche nei confronti di Cricca In tanti poi hanno scritto sui social che la trasmissione sia, pilotata, e, sia già tutto scritto Ma chi è andato in finale? Di chi parliamo precisamente? Ecco chi è arrivato in finale di Amici 22. È polemica In finale ci arriva con grande polemica Angelina. Che in realtà è la super favorita per la vittoria finale Non solo. C'è anche Mattia. Isobel e Wax C'è da dire. Che anche tanti altri hanno considerato giusto il passaggio in finale di Wax Nonostante le polemiche assurde Parlando invece di Aaron su Twitter, la polemica sul presunto colpo di scena Di cosa parliamo? In molti hanno sperato che dopo l'esito del ballottaggio in qualche modo sarebbe arrivata in extremis la notizia di un suo ripescaggio Chiaramente non è successo nulla di tutto questo. Il ragazzo è tornato a casa C'è da dire tuttavia che Aaron ha preso con filosofia l'eliminazione Dicendosi, soddisfatto del viaggio compiuto all'interno della scuola di canto e ballo Il ragazzo poco dopo ha ringraziato di cuore Maria De Filippi per l'opportunità avuta Per lui però questa vicenda è finita Ora a battersela per la finale, come dicevamo, domenica prossima 14 maggio 2023 Saranno, Angelina, Mattia, Isobel e appunto Wax Sarà uno di loro a portarsi a casa la gloria di questo programma per l'edizione 2022 Non ci resta che attendere e vedere chi la spunterà Sarà uno di loro a portarsi a casa la gloria di questo programma per l'edizione